Radio Firenze Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola Buonasera a tutti i nostri ascoltatori In primo piano troviamo ancora la tragedia che ha colpito Genova Il disastro ha visto numerosi post di solidarietà sui vari social network In casa Viola il ciolito ex attaccante genuano Ha pubblicato una foto di Genova su Instagram con scritto In queste ore di grande sofferenza sono vicino alla città di Genova Sono in molti in queste ore a dedicare pensieri alla città Per citarne alcuni troviamo Mimmo Criscito, Mattia Perin, Stefano Sturaro, Mancini e Vincenzo Montella E molti altri ancora Tutte le attività odierne intanto di Genova e Sampdoria sono state sospese in rispetto delle vittime In Serie A invece indetto il minuto di silenzio su tutti i campi dal presidente del CONI Giovanni Malagò Per Fiorentina1.com Andrea Valeri Viola Tweet Viola Tweet A cura di Fiorentina1.com La voce del tifoso Viola